Ieri sul giornale ho letto di Berlusconi che ha salvato cinque tra agnelli e capretti per il periodo di Natale. Era lì in mezzo all'erba che stava dando il latte ad un agnellino. E' una bellissima cosa, l'ho fatto anch'io tempo fa, ma quello che mi viene da chiedere è come mai non abbia fatto lo stesso per quel ragazzo che sei anni fa le scrisse, inviandogli anche la documentazione, che stava morendo perché era costretto a vivere fra le macerie di casa che era esplosa due mesi prima e quando uscì dall'ospedale il comune di Milano lo costrinse a vivere fra le macerie della stessa casa esplosa nella quale bruciò vivo. Ecco, quel ragazzo sentendo di morire in quelle condizioni costretto a vivere peggio di un animale perché era quasi privo di mani, bruciato dal fuoco e per cui non poteva né mangiare né bere né lavarsi né vestirsi soffrendo il freddo ogni notte come succede nel periodo dei primi di maggio. Ecco, quel ragazzo con difficoltà, avendo le mani in quelle condizioni, mandò una lettera, una raccomandata al signor Silvio Berlusconi che era anche presidente del Consiglio. Lo fece perché dopo aver scritto al sindaco di Milano di Forza Italia, al presidente della regione Lombardia Formigoni e nessuno le dispose, chiese appunto con quella raccomandata a Berlusconi di poter fare almeno una telefonata alle autorità perché intervenissero per sistemare almeno la casa, non farlo morire in quel modo, agonizzando giorno per giorno fra le macerie e la furigine, lo sporco, con tutte le ferite sul corpo causate dal fuoco che potevano provocare un'infezione per cui ucciderlo, oltre a non poter mangiare. Ecco, Berlusconi non rispose nemmeno a quella raccomandata e so per certo che poi gli inviò un'altra, diciamo esattamente un plico raccomandato con tutta ancora la documentazione, ma non rispose nemmeno a quella. Ecco, quello che viene da chiedere è come mai non l'abbia fatto salvando quel ragazzo da una morte sicura. Evolgendo gli occhi al cielo posso dire una cosa, grazie a qualcuno da in cima, oltre a questa realtà, a questa dimensione, che ha aiutato quel ragazzo. Anche se quel ragazzo moralmente e anche fisicamente, essendo stato storpiato dal fuoco, è morto.